Turno di riposo domenica per il Catania che si lavora in vista della trasferta con il Francavilla. Il Palermo invece ospiterà l'Avellino. Una sosta che arriva al momento giusto. Il turno di riposo che il Catania osserverà domenica dopo l'esclusione del Trapani concede all'allenatore Peppe Raffaele dieci giorni per poter recuperare tutti i giocatori, anche quelli che oggi lavorano per recuperare a pieno la condizione. Il riferimento è soprattutto appinte dall'olio fuori da quest'avvio di campionato che ha portato i rossazzurri ad eliminare subito la repenalizzazione senza la quale sarebbero primi in classifica. Raffaele lavorerà oggi e domani prima di due giorni di riposo concessi alla squadra per inserire ancora meglio negli schemi anche Maldonato, il cui tesseramente è stato riconosciuto grazie al lavoro della Segreteria Sportiva del Catania e che sarà a disposizione di Raffaele dalla prossima trasferta pugliese a Francavilla. Maldonato dovrebbe agire al fianco di Rosaia, uno dei migliori di quest'avvio e già in allenamento stanno cercando di trovare la giusta intesa. Francavilla prima, poi il match interno con la Ternada da disputare sempre a Lentini. Sono queste due partite che Raffaele vuole preparare bene perché rappresentano due passaggi importanti per il proseguo del campionato del Catania. L'obiettivo è continuare a vincere per alimentare entusiasmo e fiducia come quella che cerca il Palermo. La squadra a Rosa Nero dopo il pareggio di Terni ospiterà domenica l'Avellino al Renzo Barbera. La squadra di Boscaglia deve sbloccarsi in attacco. Sinore è l'unica formazione di Serie C a non aver realizzato nemmeno un gol. Per questo l'allenatore sta valutando attentamente le soluzioni offensive con Saraniti che potrebbe perdere il posto da titolare a vantaggio di Lucca che dovrebbe fare coppia con Rauti. L'altro dubbio che si porterà dietro Boscaglia è a centrocampo con Dode e Daccardi in lotta per una maglia da titolare.